Alla vigilia dell'attesissimo sinodo sulla sinodalità, alcuni cardinali conservatori hanno organizzato un controevento dal titolo La Babele Sinodale. I religiosi esprimono le loro preoccupazioni sulla possibile apertura della Chiesa a temi quali l'inclusione delle persone LGBT+, e l'ammissione delle donne all'ordine sacro. I cinque cardinali, guidati dallo statunitense Raymond Barr, avevano già sollevato le proprie perplessità attraverso una lettera al Papa, intitolata Cinque Dubbia. Non trattano dei tempi passati. Il linguaggio è molto rivelatore della mondanità della visione. Poi non trattano della persona del Santo Padre. Infatti, per la loro natura, sono un'espressione della dovuta venerazione per l'ufficio petrino e il successore di San Pietro. Il sinodo che inizia oggi in Vaticano e al quale per la prima volta potranno votare anche le donne, potrebbe portare alla discussione di temi tabù per la Chiesa cattolica, quali la benedizione per le coppie omosessuali e la possibilità di ammettere le donne al percorso sacerdotale e diaconale. Grazie. Grazie. Grazie.